Ciao a tutti i fans della pagina esercizi di bodybuilding, oggi alleneremo come gruppo muscolato scolare le spalle. Primo esercizio Arnold Press però alternato dove faremo 8 ripetizioni di destro alternato con quella di sinistra per 8 volte e 8 tutte e due insieme. Faremo quattro serie con pause di un minuto e mezzo. E' un ottimo esercizio per stressare proprio la spalla. Secondo esercizio alzate frontali appoggiati bene sulla panca. avendo la schiena bella ferma però 5 serie da 10 con pause di un minuto. un minuto. Il terzo esercizio che poi saranno 5 esercizi, sarà un circuito, tutto per la parte laterale della spalla. Quindi faremo alzate laterali su panca 70 a un braccio, poi alzate laterali il cavo davanti e dietro. Tutti gli esercizi saranno a 10 ripetizioni, i giri saranno 4 e le pause di 2 minuti. vediamo bene come si chiama. Vi ci facciamo che questo è un scambio. Lasciate a stare alla bossa parola. E' un cattivo da un canale. Rapportate in sannulare con il fanno. Ma che cosa staccia? stop! Ah! No, è finchiamo al rotto. Ah! 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 Adesso. Ah! Ah! Ah Oh 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 ah 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 Ah, 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 Primo esercizio, poi avremo terminato la sessione spalle, tirati a 90, 4 serie da 10 con pause di un minuto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS